Musica Mercoledì 25 marzo, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV sintonizzati sul 17 per seguire come tutte le mattine la rassegna stampa Occhio ai giornali che come di consueto apre con il calendario, il santo di oggi ma in realtà oggi ricordiamo che la Chiesa celebra questa solennità questa seconda solennità in questo cammino di quaresima solitamente siamo abituati perché va a messa tutti i giorni a vedere il sacerdote con i paramenti viola oggi invece saranno bianchi perché c'è l'annunciazione del Signore l'angelo vedete che annuncia a Maria la nascita e il sole è sorto alle 6.02 tramonterà alle 18.26 vediamo il tempo intanto con la... vedete questa mattina piove pioverà per tutto il giorno il satellite non so se riusciamo a farvelo vedere ecco qui sotto c'è l'Italia sotto questa girandola di nuvole c'è l'Italia coperta da appunto da questa perturbazione 12 gradi alle 7.30 del mattino oggi avremo cielo nuvoloso molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio a temperature minime in aumento e massime stazionarie i venti sud orientali moderati con rinforzi fino a vento fresco in mare e lungo la fascia costiera intensità in attenuazione dal pomeriggio il mare sarà molto mosso per domani giovedì 26 persiste il maltempo nell'entroterra mentre migliora anche se ci saranno ancora nuvole con variabilità diffusa sulla costa per la giornata di venerdì 27 ancora maltempo con residui piovaschi nelle zone appenniniche mentre il cielo sarà poco nuvoloso con nuvole basse in particolare nelle zone interne e sulla costa un generale miglioramento è atteso per il fine settimana con cielo prevalentemente sereno allora i giornali di questa mattina i giornali di questa mattina aprono tutti più o meno in modo diverso rispetto al solito cominciamo da Fano scenari di guerra all'aeroporto elicotteri e soldati in esercitazione questa è l'apertura del resto del carlino alla pagina di Fano Fano Fortuna è orgogliosa Fano Fortuna è la società che gestisce l'aeroporto di Fano qui dicono ci sono le garanzie per questo è stato scelto il nostro aeroporto come scenario per l'addestramento e vedete queste sono le immagini degli elicotteri impegnati in questa esercitazione dragaggio del porto invece il sindaco chiede un milione in più missione ad Ancona giardini lavori entro maggio vedremo il porto è croce delizia di Fano abbiamo fatto un ulteriore passo avanti ha detto Massimo Seri ieri mattina all'uscita dall'incontro con l'assessore regionale Paola Giorgi sui porti marchigiani ma ancora non basta bisogna che le disponibilità che la regione ci ha indicato siano rimpinguate poi si parla del successo di Forbici con questa mostra interessantissima di biciclette in esposizione nella sala San Michele mostra che comprende anche rari esemplari di cicli vacanze corte così uccidete il turismo i bagnini fanesi contro il ministro Poletti ma non puntavamo alla stagione lunga qualcuno si chiede Andrea Giuliani già non va bene dice che le scuole aprano a metà settembre se poi anticipano ancora insomma c'è anche questo aspetto commercialisti Lucchetti vicepresidente Marco Lucchetti il nuovo vicepresidente nazionale del sindacato unitario associazione dottori commercialisti è un commercialista fanese lo vedete in questa fotografia Cartoceto getta rifiuti non divisi è stato multato a 92 anni vittima appunto un nonnino di Cartoceto lo denuncia il portavoce di Fratelli d'Italia Sandroni la motivazione mi hanno detto che siccome l'anziano è ancora Arzillo il verbale ci poteva stare è un verbale di 50 euro a tanto ammonterebbe secondo quanto segnala appunto Sandroni il valore della multa fatto all'anziano mentre il sindaco Enrico Rossi il fatto mi pare strano perché sul nostro territorio gli ispettori dell'ASET non operano redditi dei dirigenti ASUR il responsabile lista d'attesa ha lo stipendio più alto dopo la direttrice di area vasta Maria Capalbo e adesso andiamo sul Corriere Adriatico Pesaro consorzio per la nautica l'unione fa la forza il neonato soggetto gestirà gli spazi e le strutture della nuova darsena una rivoluzione al porto mentre per i danni provocati dal maltempo botta risposta sui fondi di serrato confronto tra l'assessore Biancani e il governatore Spacca sulla questione delle risorse statali che la regione ancora non ha stanziato la pagina di Fano invece utilizzare i fondi della strada delle barche il PD per il turismo realizzare la passerella per tutto il lungomare e destagionalizzare è la parola d'ordine non si possono trascurare sei chilometri di spiaggia solo perché la ferrovia rappresenta una barriera i punti di forza sono anche l'archeologia la storia la gastronomia le opere d'arte e le manifestazioni più in alto asfalti dissestati raffica di richieste danni al comune aumentano a dismisura le richieste danni presentate all'amministrazione comunale di Fano per il cattivo stato di manutenzione delle strade ormai non passa giorno che a causa di una buca di particolari dimensioni non si danneggi il pneumatico il cerchione di una ruota e insomma aggiungiamo noi anche danni a volte anche fisici poi più sotto anche il Vescovo chiede l'intervento di dragaggio del porto in occasione della festa di San Giuseppe la situazione aumenta la precarietà del lavoro della nostra gente ha detto il Vescovo poi ancora non soffrire è un diritto di tutti terapia del dolore da Fano l'indagine su Marche Nord ok a 39 parametri su 50 e poi ancora più sotto Children's Tour al Salone Brilla la città dei bambini il Paese dei Balocchi e i genitori di Sant'Orso alla Fiera di Modena ancora Piazza Kennedy Amarotta percorso ad ostacoli deterrenti inefficaci e accessi indiscriminati con grande rischio per pedoni e ciclisti opere accessorie ora inizia sempre da Marotta la vera battaglia il comitato che si chiama attraverso Marotta annuncia la mobilitazione dei cittadini per bloccare il progetto di Ferrovie dello Stato dovranno spiegare il perché di tutta questa fretta nel chiudere una trattativa che va avanti da 28 anni ancora dal Corriere Adriatico si torna a parlare di quel pizzaiolo di quel titolare di bar pizzeria che ha messo il cartello che vietava l'ingresso ai politici ebbene questo divieto finisce dal prefetto è stato segnalato in prefettura il bar pizzeria da Anna per quel cartello che appunto vieta l'ingresso ai politici lo ha riferito ieri pomeriggio in consiglio comunale il sindaco di Senigallia proponendo sul tema della sicurezza di organizzare una commissione apriamo adesso il messaggero lettera di Spacca che dice non mi dimetto questo PD isterico mette a rischio le marche ci sono atti decisivi che ci attendono tradimento è tragicomico dice ancora Spacca il centro-destra va per conto suo io sto con chi sostiene Renzi poi ancora dalla prima pagina del messaggero Pesaro studi gli studenti in piazza ma a lezione provocazione in pieno centro storico contro la chiusura dei corsi e poi Zingaretti l'attore fa il Pesareiers ieri era a Pesaro per il lancio nazionale del film tempo instabile con probabili schiarite entriamo nelle pagine interne del quotidiano romano ex Bramante spuntano gli acquirenti oltre alla cassa depositi e prestiti sarebbero interessati anche due gruppi di imprenditori il bando ci sarà tra un mese problemi tecnici hanno rallentato l'iter per la vendita già deliberata del complesso di largo Aldomoro e ancora nuova Darsena sempre da Pesaro i 200 posti barca e Portobello alleanza tra 31 enti e associazioni nautiche pronti per l'estate 2016 lavori da un milione e mezzo di euro per il futuro consorzio ci saranno spazi anche per la pesca entusiasti sindaco e capitaneria e ancora sempre dal messaggero Magno e Fede Filippo Magnini Magno e Federica Pellegrini il tapiro è doppio la Pellegrini papparazzata mentre sofferma lo sguardo sulle parti intime di un collega e quindi si è guadagnato il tapiro andiamo invece per chiudere sulla pagina di Fano del messaggero la maggioranza vuole zittire le voci fuori dal coro nel mirino è finito l'intervento di Adanti di dirigente di sinistra unita polemico verso la fondazione teatro poi Davide in chat con i genitori prima del tragico incidente ieri si sono svolte a Miami l'esequia del giovane ristoratore a centropagine in evidenza l'intervento del vescovo sul porto sul porto una soluzione rapida Monsignor Trasarti si augura che Dio illumini gli amministratori e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito buona giornata e appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci A presto